Parla! E abbiamo con il team numero uno Padri Peccadò e Elenia Campeller Antonio Montalini e Manuela Sarabella Israele tutti insieme Renato Vettorato e Lorena Minante Alberto Metello, Roberta Martina, Alex Edrizzi, Ester Salerno Danilo Berlino e D'Agendina Filippo Nicola Di Cogola, Veronica Sampietta Dili di Vietro e Dili di Vietro e Dili di Campelli Dili di Campelli, Dili di Campelli, Dili di Campelli Vado una filata in cine? Ecco Nicola, il primo team Secondo team, Capitanale